Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Sono tornato con un nuovo video su youtube ragazzi Che appunto sono stato un po' stente perchè comunque c'è stata la pausa delle nazionali E quindi l'intero non ha giocato Quindi non mi andava di portare video perchè comunque video sul... come ho detto Video sulle nazionali non li porto Vi porto solo questo video qua che riguarda un po' la nazionale Ma solo in parte Infatti ragazzi l'Italia ha disfruttato le sue due partite Le ha vinte ok va bene però adesso vogliamo l'Inter Vogliamo l'Inter adesso tra 5 giorni c'è l'Udinese a San Siro sabato sera Ci avviciniamo sempre di più a Inter-Udinese ragazzi Ormai i nazionali che sono ancora in giro per il mondo mi pare ci sia Penso solo Lautaro forse anche Vecino Penso Lautaro e Vecino che sono ancora impegnati So solo che Lautaro appunto deve giocare mercoledì sera Quindi molto probabilmente ragazzi Lautaro non sarà titolare con l'Udinese E giocherà Sanchez subito Quindi la titolare Sanchez sarà contro la sua ex squadra contro la sua ex Udinese La prima da titolare con l'Inter a San Siro per Alexis Sanchez Speriamo possa segnare comunque e far bene Cosa voglio dire ragazzi io ieri ho visto la partita dell'Italia Perché comunque non avevo nulla da fare ho guardato la partita dell'Italia E San Siro ragazzi io lo so che dico sempre che San Siro è forte Però ragazzi bisogna dirlo San Siro purtroppo è forte cacchio raga bisogna ammetterlo È un top player Cioè un top player Comunque in mezzo al campo è forte È un giocatore che serve a noi E speriamo non si faccia male Perché se si fa male uno come i sensi ragazzi Secondo me noi potremmo patire a metà campo Ho visto boh io ragazzi invece ho visto Barella Che boh non lo so ragazzi Barella non Boh non lo riesco a interpretare Perché Siamo ancora fuori forma Siamo tanto fuori forma In queste due partite Con la nazionale Che comunque le ho guardate Barella è fuori forma ragazzi Secondo me Barella è ancora fuori forma Io non Non so come mai questa cosa Cioè comunque Lui si è allenato con l'Inter Ha fatto l'annunchevole estive un po' Boh Siamo ancora Siamo ancora inietto Speriamo possa Acquisire al meglio la condizione Prepariamoci ragazzi Perché Ci aspetta veramente Un mese di fuoco Ma proprio un mese di fuoco Perché infatti avremmo nell'ordine Sabato Interudinese In settimana La prima di Champions Con lo Slavia Praga Poi il derby ragazzi Il derby che sarò in curva a vederlo Poi dopo il derby Mi pare la Sampdoria Dopo la Sampdoria La Lazio A metà settimana Ragazzi E poi la Juventus E dopo la Juventus Mi pare il Borussia Dortmund Adesso non ne sono sicuro Però comunque ragazzi ci aspetta veramente Un mese di fuoco ragazzi Quindi Siamo concentrati Qualche punto secondo me La potremo lasciare per strada Ovviamente speriamo di no Io ragazzi vi invito A iscrivervi al canale Perché appunto Siamo a 48 iscritti Ragazzi Mancano 2 iscritti E uscirà un piccolo speciale Uno speciale di 50 iscritti Quindi ragazzi Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Ovviamente Attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati E niente Speriamo Adesso inizia pure la scuola Però ragazzi Che palla Ma inizia pure la scuola Ma perlomeno Ritorna alla nostra Inter Bella ragazzi E Amano sempre Grazie